Ciao a tutti, sono Pibo Oggi siamo qua con un nuovo gameplay di Call of Duty Ghost Però prima di iniziare la partita vi voglio far vedere un po' con che classe giocherò Allora, il cottello dorato è Magnum È 44 Magnum con freno di bocca Allora sarà una partita con la Magnum Poi sarò al C4 Perché è utile, queste sono le specialità E ho messo supporto perché è davvero dura andare insieme con una Magnum E andiamo al video Ed eccoci qua con la partita Allora, mi ha trovato una partita di dominio Su Strike Zone, perché ho scelto appunto Strike Zone E andiamo a vedere come andrà a finire Ok, non vedo nessuno, cazzo E va a cagare Uno Grande, così si gioca Minchia Mi sa che in questo episodio sarà impossibile andare in positivo Non so perché, ogni tanto è sciotta Ogni tanto no Non ha molto senso sta roba Non prendete la B E che cazzo Mi ci potevo fare la strage ma me li hanno uccisi tutti Ogni tanto cilino colpo, ogni tanto no Non ha senso sta arma E va a cagare Anche te Ma no Mi ha ucciso quello, cazzo Perché avevo coltellino E che cazzo Ma poi Oddio, uno dei nostri stassi di rilavente Quello muore Appunto, questo dovrebbe passare da qua Dai E dai Ah, stai stardenti Che stasso Strasso provvigionamenti andiamo a lanciarli su C che sembra la opzione migliore cazzo mi hanno visto un attimo grande mentre prendo l'arma ma va a cagare i miss di merda non parlo oh attacco che emma c'è sempre culo ecco c'è qua ok ok fa niente col tac 12 che cazzo di roba era quell'arri lì? doppia ma cos'è? one shot dovrebbe essere sta merda di pistola va a cagare qualche one shot one mille shot ok non faccio più un cazzo sto andando malissimo non ci arriverà mai cazzo quando sta quello cinquantotto due minchia oh dove stanno sacrifichiamoci per tutto un po' meno certamente un po' un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il video è finito, a partire è finito in negativo purtroppo 17-19, sono stato sfigato con la lanciata da cam quando era 190 e non ha fatto il tempo ad esplodere, però spero che il video vi sia piaciuto, mi invita a mettere un like, un commento. Un commento, balla.